vivo facile buongiorno a tutti oggi video in cui vi parlerò di prodotti cosmetici che mi sono piaciuti molto e in particolar modo di profumi ebbene sì perché come vedete qui davanti ho quattro bellissime scatole e di cui due molto simili color verde poi una azzurra e una rosa scatole all'interno di cui si trovano dei veri e propri tesori del marchio pupa e in particolar modo della nuova gamma let's bloom le scatole grandi che voi vedete io le ho acquistate prima di natale e le ho acquistate perché sono rimasta rapita e affascinata dalla profumazione che queste scatole addirittura chiuse riuscivano a emanare un profumo straordinario un profumo di fiori quindi ve lo dico subito questi diciamo prodotti sono particolarmente indicati per chi come me ama le profumazioni floreali esplosive e in particolar modo per chi ama quelle profumazioni che si ispirano a degli ambienti bucolici ambienti di campagna di fiori di campo uniti però anche al fascino di fiori da giardino quindi di quei fiori un po più complessi di quei fiori che vengono coltivati quei fiori che ispirano regalità bellezza eleganza e è secondo me che appunto amo i floreali il mix perfetto fiori di campagna e fiori regali fiori da giardino un mix che rende questi prodotti davvero utilizzabili secondo il mio avviso in tutte le stagioni perché sì sanno di primavera ma sono indossabilissimi anche in estate e io che amo i floreali beh li utilizzo anche tranquillamente in inverno ma iniziamo subito a raccontare le profumazioni che sono comprese in questa gamma intanto c'è da dire che la gamma prevede diverse scatole con all'interno diversi prodotti nelle scatoline piccole troviamo solo le acque profumate nella scatola grande possiamo trovare bagno doccia o meglio latte doccia più crema corpo oppure il bagno doccia con appunto il suo profumino il profumo che a me ha estasiato fin da subito è stato questo nella scatola azzurra tra l'altro scatola che si può poi riutilizzare anche per contenere alimenti perché è certificata e creata apposta anche per l'utilizzo alimentare quindi poi potete riutilizzarla questa profumazione qui è la profumazione daisy filed quindi il diciamo così campo il prato di margherite ed è effettivamente la profumazione che mi piace di più perché rappresenta molto l'idea che io ho della campagna e del profumo delle margherite e delle piante spontanee della primavera quelle piante che io ricordo proprio quando ero bambina in questi bellissimi prati nelle zone di campagna dove io andavo con la mia famiglia in estate e con in particolar modo la mia carissima nonna daisy filed ha a livello di profumo la scatola che vedete contiene il profumo e il bagno schiuma il latte diciamo doccia ha nelle note di testa effettivamente biancospino e fiori d'arancia nel cuore la camomilla la sento tantissimo i fiori di malva il geranio e nel fondo abbiamo muschio e legni ambrati è qualcosa per me che amo questa atmosfera rilassante gioiosa primaverile spontanea e semplice di eccelso e se è vero che il latte diciamo per la doccia non lascia una profumazione anche nel post doccia questo va detto è vero però che è una coccola meravigliosa quando si è all'interno appunto del box doccia e c'è questo latte molto idratante molto setoso che sperigiona questa profumazione uguale identica al profumo che ci fa sentire proprio di essere all'interno di una doccia aromaterapica e poi mi ha sorpreso tantissimo l'acqua profumata perché se vi devo dire sui vestiti dura tantissimo non ha una scia intensa ma è molto molto percepibile a noi che lo indossiamo e ripeto dura tantissimo quindi se voi lo spruzzate su una sciarpina o su un per dire capo come potrebbe essere un cappotto vi garantisco che non se ne va e si sente sulla pelle la mia pelle non dura tantissimo devo dire la verità ma ragazzi io cosa mi aspettavo da un'acqua profumata non mi aspettavo certo grandi performance e invece devo dire che questi profumi mi hanno stupito perché tutti sui vestiti hanno veramente un'ottima durata io adoro Daisy Filed altra profumazione che io amo alla follia è questa verde e effettivamente vedete che io ho comprato due scatole qua dentro abbiamo latte doccia e la crema corpo e qui abbiamo invece il profumo e si chiama secret garden e mi ricorda tantissimo quel bellissimo libro che leggevo da ragazzina il giardino segreto c'era anche se non erro il cartone animato il film proprio ti ricorda un angolo di verde di fiori nascosto dove solo tu puoi accedere magari in compagnia di qualche persona a cui tu vuoi bene che tu ami eccetera di queste profumazioni che ti avvolgono ti danno gioia effettivamente secret garden contiene in testa fiori di arancio mandarino giallo nel cuore gelsomino tiglio un accordo mielato e rosa e in fondo quindi nelle note di fondo paciuli il legno di cedro e la vaniglia è meraviglioso di nuovo è molto intenso ha delle punte dolci che si sentono ma che non lo rendono assolutamente nauseante quindi lo potete amare se amate in floreali particolarmente dolci ma ripeto non stucchevoli è uno spettacolo anche qui ho provato anche la crema corpo il profumo come nel latte doccia non dura tantissimo per quello che riguarda la crema corpo ma se poi noi ci andiamo a mettere il profumo sopra e soprattutto sui vestiti questa profumazione ci dura praticamente ci accompagna per tutta la giornata dalla doccia del mattino fino alla sera e poi eccolo qua caduto il meraviglioso wild flowers questo qua io snasandolo sentivo che mi ricordava qualcosa che io già avevo e probabilmente perché io ho diversi profumi che hanno all'interno delle note aggrumate ed effettivamente questo wild flowers che appunto il nome è tutto un programma fiori selvatici che meraviglia ragazzi è di nuovo strepitoso all'interno contiene effettivamente nelle note di testa ad esempio il bergamotto quindi abbiamo una nota aggrumata il neroli o neroli che si voglia il giglio nelle note di cuore abbiamo il mirto l'elicriso e la rosa bianca e nelle note di fondo abbiamo i legni di cedro e il muschio di nuovo un abbinamento di tutte queste note veramente molto ben riuscito secondo me perché appunto questa parte aggrumata ma poi ragazzi il mirto l'elicriso e un fiore bianco come la rosa bianca e nel sottofondo il sentore pulito del muschio è qualcosa di eccezionale cioè è da provare ragazzi è da provare tra l'altro vi faccio vedere com'è la confezione vedete è proprio un'acqua profumata quindi confezione di plastica ma ora lo snaso mamma mia ragazzi cioè sembra di essere veramente in campagna sembra di essere veramente in un posto magico dove trovare la gioia dove ritrovare l'energia poi un altro profumo che è quello che però io non ho più ritrovato e forse era però anche quello che mi piaceva meno è il la profumazione royal garden quindi parliamo di nuovo di giardini parliamo di nuovo di fioritoni però parliamo in particolar modo di qualcosa di un pochino più come posso dirvi appunto regale quindi di un giardino meno spontaneo ma comunque meraviglioso e poi magari vi metterò di quello le note perché in questo momento non me le sono segnate proprio perché non avendolo comprato non diciamo non pensavo di descrivervele però vi metterò le note in fondo diciamo quanto costano queste scatole meravigliose allora io questa quindi il profumino l'acqua profumata all'interno di questa meravigliosa scatola di latta l'ho pagato sugli 11 12 euro mentre la confezione con due prodotti l'ho pagata sui 18 se ne vale la spesa assolutamente sì vi dirò che io questi li ho presi ieri perché erano due settimane che mi sono detta chiara aspetta un attimo prima di comprare che i 2000 profumi 2000 cose riflettici un attimo poi dopo due settimane ho riflettuto e mi sono resa conto che è vero che ho tanti profumi ma è vero che io amo i floreali e non sono certa che pupa terrà questa collezione a lungo quindi non so se rimarrà sempre e per me era veramente importante avere questi profumi perché mi danno veramente una carica e una gioia strepitosa poi durando anche molto queste acque profumate ecco non potevo farmeli scappare latte corpo nel senso di crema per il corpo bagno schiuma nel senso che scusate non mantengono a lungo la profumazione sulla pelle però è anche vero che sono belli da abbinare all'acqua profumata perché è proprio una coccola che uno si fa sotto la doccia e niente spero che questo video vi possa essere utile vi sia piaciuto io l'ho trovato nei negozi cardis ma devo dire che pupa let's bloom si trova anche nelle profumerie online e nelle migliori profumerie quindi non credo che avrete eventualmente difficoltà ad acquistarle vi ringrazio per avermi seguito vi rimando ad un prossimo appuntamento ciao